Per secoli, il mondo degli abissi è stato circondato da mistero. Secondo alcuni, gli abissi sono luoghi ostili, abitati da strane creature. Secondo altri, sono prigioni per i più pericolosi ribelli. La leggenda racconta che l'unica possibilità di liberarsene è impadronirsi della maschera che tutte le creature degli abissi bramano da anni. Una maschera, si dice, per la quale tutti sono pronti a combattere e a rischiare la vita. Ma l'unico modo per conquistarla è immergersi e lottare. La leggenda racconta Forse tu sei più in gamba degli altri. Ma se pensi che i tuoi problemi siano finiti, capirai presto che sono appena iniziati. Bionicle presenta i nuovi barrachi. Minaccia dagli abissi. Minaccia dagli abissi. Minaccia dagli abissi.